Qui, qui c'è tanta f***a su HipopTV c'è lo show, c'è lo show, c'è lo hashish al punto che io posso scompare i miei ospite L'hai ho capito? Condividere questa diretta in questo momento su Facebook, su Twitter, su Twitchbook, su Fester, su YouTube, su YouTube Conoscete bene la storia che stiamo facendo Tutti i giorni su HipopTV, settimana scorsa, settimana scorsa c'era Guev, oggi c'è Salvini e poi abbiamo fatto 17 novembre, nuovo peperone, solamente, solamente, freschezza, autenticità, arte, freschicità, autentichezza, artatacche Certo, ma perché non fate anche il percorso contrario, cioè portare l'Italia a fare quello che tu potresti farlo, no? Sì, c'è il dab dove c'è la mano, dove c'è la faccia, dove c'è il fano Connettere e parlare, discutere, parlare, discutere Milano City Sì, gang, rar, sengeng, sengeng